non è solo uno non mi mancherà un cazzo glenni ma perché non vuoi fare per non mi non c'è pelo ma quanto sei infame chi ti ha fatto poco che il figlio di votare ma cosa cosa non mi stava prendo un po' spagato il muro magari ti intendo magari fa graffi con il tuo cuore ti avevi paura eh? giusto un pochino eh è rosso esploso contro il muro e non mi mancherà non capita giovanni giovanni ma dio stavo per uscire come è possibile? non muore mai stavo per uscire provate nel letto di notte nooo l'unica mossa utile di Zubat è quella che non va mai oh la miseria che papine che si tratta ah beh allora qua non c'è più la svolta non so cosa è successo 23 fuggi comunque eh metà lì bella non fai ma che fungole e ti guardi c'è pure una medaglia ecco andiamo alla palestra mano per la mano volevi essere un appuntamento non è vero basta oh ma c'è qualcuno chissà chi è C'è Silvio, normalmente no, Elvis, 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 va bene, va bene, va bene, dobbiamo andare a Miniera, ultime parole per Bistecca, se ti rivedo in giro ti prendo a sprangate qui, Bistecca, scommetto che eri davvero molto buono, soprattutto Togo, chi stia apprezzato, resterai sempre nel nostro cuore, Chi? Ho fatto Spost, si la voglio liberare, ciao, Bistecca, ops, devo usare Drapion, quale sfortuna, non avrei mai voluto, io preferivo Bistecca, finca 300 per una pozzina minchia se posto, se le fanno pagare bene, quante pokeball ho finca, devono pur campare sti uovi, e c'è un'altra cosa qua, pokeball, ho trovato un altro pokeball, Scusi, oh pokemon, possa away, no, share i pokemon K等 e vuelvo, o remember , non è male, no? In cordones è terra infame? Sì, non lo posso tope, no, è roccia psico secondo me, è terra psico, roccia.. Non era voluto Non era voluto Non era voluto Avevi detto a me tu? Si Volevi il mio tu per caso? Ma lo volevo conto Perché muore? Madonna Mi ha uccidito la squadra Mi ha uccidito la squadra Non va bene Cioè è paralizzato Quando non prende la fossa E va in sopravvento E' un flaccidario Non ti aspettavo Prende la con la pokeball Ora Possiamo usare il volgibot Ho cambiato Ma sai qual è il vero problema? Ma è il 5 Ma come fanno a stare dentro? Sono al 13 io al massimo Ehi Vedi un po' di confine Ma il volgibot lo ammazzano Dici? Sì Secondo me sì E' un Ciao Ui Ma il volgibot lo ammazzano ma sono il primo conto questa è considerata sicuramente considerate un altro problema un po c'è un luogo momento per ogni cosa non è per tirare un amo perché volevo pescare il tizio deve pescare ma ho portato un po con di nascosto alla volta ti prego glum va bene ma non è le mutande cos'è quella barba è era fatto non è che voglio solo allenare dragoschi ragazzi ma capitemi c'è impara furia e impara l'ira di drago c'è la nostra più utile del mondo perché tira giù le squadre e perché per adesso tipo fa 40 fa 40 botta ragazzi perché mi fai fermare la botta bello ma questo qua è carino sì questo è carino mio aspor ha fatto un attacco fisico e vado all'altro modo piccinino che è anche super efficace non morire tra le fiamme dell'inferno non va mai con te va questa è una naso ragazzi premete quel cosciente ma metterebbe anche un altro cosa vuol dire non lo so sai sembra tipo il naso bloccato ma la mia ragazzi un po come un tipo ero ma dicendo non molto bene non bene non bene porcino non fiume effettivamente opzione quindi posso usare una su dragone scusate dragoschi perché ne aveva bisogno giù è tipo ehi spostati stai guardare ecco la roccia non si rompe esplode quello il mio problema un altro no non è detto no tutto ma non è detto guarda ti prego ho paura ti puoi schippare ti puoi schippare si che vendetta mi spiace ora devo indorare la pillola il gippotto non dovrebbe fare tanto calciugno bravissimo Rocco tutta la vita ti ha tirato un calciugno come Rocco gli spacca il culo no perché è rotta è Rocco è roccia e ma no calciugno vedi Rocco che vola è vero scafio è un po' paralizzato però ma è buio no eh si è veleno buio non è Cleottero no è buio scendere scelgo ha un voto di difesa e per forza chi lo riguarda perché gli fa sempre sta moj perché mi sa che ancora è centri questi giorni cosa vuoi fare con giuboni non ti toglie si fumi riguardo come vuoi fumi sguardo eccola cosa non dovrebbe farlo no vendetta funziona solo che toglie poco se non gli fai una mossa che gli ha fatto danno il turno precedente oh grazie ti tiro giù la difesa giù mi ci scipite da qui poi fai chissà se un fumi sguardo in più ce l'avrebbe fatto non sia un faio vero l'importante è credito e adesso c'hai i forni e lì ti parte una pace 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 guarda che lui ha pazienza lo so si è schientato contro una roccia guarda che fa di malissimo dovrebbe sviluppo un contraccolpo che la metta basta Adamo qua pazienza per me che quando sfoga l'energia è grave è gravioso hai fatto brutto colpo se non va giù adesso ti ammazza ti ammazza ma il prossimo fu adesso no ma no mi sa che colpisci prima tu se sei più veloce meglio ti vola la barra della vita fuori dello schermo wow ciao quillfish ciao quillfish Dio santo sono stati completi errori della serie mistakes were made Charlie die 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 faiiii è più duro quillfish ultime parole ci mancherai hai detto una palla al piede in tutti i sensi ci mancherai sheldr la tua perla è stata molto più utile di te il frame mi rallento nooo c'è ancora una palla dritto di la persona eccola oddio vi troviamo lamentati 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 vai col turbo sabbia tu prendi la sabbia in faccia forse ragazzi prenumete qualsiasi cosa sul vostro telefono uno due ragazzi non state premendo un'unica anche tu sei inutile ragazzi tre potere miordi ti prego non distruggermelo si sta dentro si sta dentro perfetto l'hiscord l'hiscord non è affatto male un volante certo il ghiaccio è tipo però quelli sono altri dettagli è una naslock ricordiamoci quindi la figa fa da padrono dopo il giracce io mi sento super 4 il campione magari potremmo avere magica non è più di magica 15 cal 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 e su di che non lo impari no ok bravo voglio che morso di faccia dimenticare allora sono tutte ultime ma secondo me fu un sguardo perchè togliere tornato e comunque sono 20 e dai fu un ricordo e puff cioè come funziona sta cosa devo ancora capirla visto che tipo i pokemon di Ashley ci tengono a mente tutti cioè ah giusto il veneno senti tipo i pokemon di Ashley sa fulmine super fulmine tuono onda shock locomovol attacco rapido attacco rapido attacco rapido con acciaio e energie sfera e 2 di coppe e capo palestra ci siamo che pokemon avrà anche sui seguaci ovviamente quindi sul cazzo non ti vede non viene ancora investita il tuo mico no ah no lo hai già fatto parla col tizio bello che mi da la pulsione un ragazzo come questo è un tipo di roccia certo come no ci crediamo ti sta dando un cazzo dammi niente risfido si potrei saltare il passo si no livello si è vero che potrebbe lavorare lui hanno gesù si va bene si all'undici a loro ce li hanno all'undici quanto siamo nella merda e con ira di trago beh potrei far salire anche porcino porcino dice lui si cioè è utile contro un caso ci abbia poche e lui è roccia chi è roccia? lui è roccia terno e quindi oggi va è coerente con se stesso ma non aveva più cubone mai nella vita ci aveva giudito forse si non solo giudito Massimo Onix Massimo un porcino di assorbimento vai porcino adesso è lui 102 102 eee per la miseria il designer lo so lo so lo so cosa avrà mai sono due l'abbiamo chiamato prima si è vero c'è scintilla non va con onda non va va su azione eh infatti ma azione tanto non mi fa niente cioè questo tizio contro i tipi elettro è bellissimo sottocarica vabbè c'è inutile ti carichi aumentare la difesa speciale la tappa speciale ma hai mostro di tipo elettro al massimo che non serve a niente già ma ho solo difesa speciale no difesa speciale ma io tanto solo vado di fisico questa animazione ce ne aveva rotto le scatole cioè questo l'Axlis cambio poco non gli spara una scintilla che lo fa volare a Napoli ma dopo aver fatto tutto il giro del mondo perchè vado con Napoli? no non c'ho niente contro Napoli ragazzi siete di Napoli non c'ho niente contro Napoli non c'ho niente contro Napoli non c'ho niente contro mi stende sasciata eeeh Firo uso una muscia tipo uso sassata muore eeeh è volante è volante scherzo poverino beccano guarda si è fatto malissimo puoi farlo che dovrebbe farlo a me è sempre piaciuto Golan l'unico finger in the ass che dovevi scambiarlo per farlo perché io ti puro come Rai Pyrion eh fia Rai Pyrion tipo per forza dovevi scambiare non ho un amico io che ho capo ciao questo mi sono Pedro il capo palestra un altro che è una droga dedicata a tua vita e poi con un tipo roccia si ci crediamo va bene va bene iniziamo oddio se parte lenta ok adesso accelera ho accelerato sempre di più perché si chiama Scott cioè ha scritto Scott padre è scritto di Scott Tim rosso rosso io ti drago io ti drago tutta la vita quanto li toglie 40 oh bene perfetto vi sottrucce benissimo si oddio adesso sono lento come la fame tipo io mi muro no aspetta forse lo uccido zitti tutti i ragazzi mi sto mi sto andando toccando il pacco si no ma vabbè ma ragazzi non potete capire l'ansia ti trovi davanti oh che trico cioè passiamo da giratina a trico dici che me lo ammazzo tu lo ammazzi lui se mai eh ma guarda perché il giratina al 12 è quello di Debel mi voglio trico o trico no al 12 eh l'altro sarà 14 si è 14 fumi sguardo Dio mi fa calare la difesa non mi piace è vero che non è un'evoluzione quindi ma ma non potete capire la giratina di prima c'è bocca ti saputo oddio sono le 10 eh è voluto oh la ma ha voluto ogni tanto un pochino di grazie adesso chi c'è crei arceus lo ho chiamato teffero no non abbiamo neanche mossa lotta ma stiamo scherzando chi ce li ha i fulmini chi ce li ha i fulmini io ero di drago yoga cos'è che è? acqua beh acqua posso sopportarla e l'altra che mi tipo oh adesso forma primordiale ma come resiste però guarda penso che potremmo fare il prossimo come ho fatto prima ma guarda sull'iratina già nutrivo dei dubbi però forse forse dio che ha idropulsor è più più veloce di me lui è più veloce eh lui è più veloce di me porca non è molto efficace quello io sono io mi chiamo Gianfrancioschio se quello non è molto efficace però ira di drago ragazzi cioè ira di drago ragazzi è stata la benedizione che c'è si è fottuto con la pozione si è fatti veramente che figlio si è fottuto con la pozione get wrecked cazzo è imbarazzante si sei una cosa schifosa effettivamente capo palestra di roccia di stampina che di roccia non ho un calcio né che ratina che ratina di roccia di roccia di roccia di roccia c'è c'è nata bene che abbiamo trovato adesso che ho imparato ira di drago ci sono trovato prima cosa facevo ciò c'è quanti leggendari sono già passati ragazzi ci sono già passati 4 4 4 a casa in te youtube a self giratina giratina chiogra 9 5 c'è porca miseria porca miseria ma ragazzi lo sbattasto ci fa così dopo potete vederlo voi tre ore di registrazione c'è giratina e chiogra in una volta sola sono decisamente troppo per il mio povero cuore ragazzi salvato abbiamo salvato quindi ci sono lasciato un commento mettendo mi piace perché c'è giratina e chiogra c'è chi è che non muore contro giratina e chiogra c'è solo io c'è 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 porca c'è bici quindi noi ci vediamo il prossimo dal nazlock forse con l'uomo rosso di sceglie vediamo se non muore se non muore quindi balazzi fail lo metto fail fail di dio fail ma aspetti aspetti non ci preoccupi non ci preoccupi è sparita la medaglia di pedro non ci preoccupi non ci preoccupi